Oggi scopriamo insieme come viene prodotto il latte Parmalat a lunga conservazione. Solo il latte che passa tutti i nostri test viene accettato e raccolto in silos, pronto per essere sottoposto ad un trattamento termico speciale o HT che ne consente la conservazione per più di tre mesi senza l'utilizzo di conservanti. Parmalat applica parametri di trattamento termico e di controlli tali da preservare al massimo le proprietà nutrizionali del prodotto, garantendo alle famiglie un prodotto sano e sicuro, senza conservanti e senza antibiotici.